salve a tutti ragazzi oggi vi porto una partita giocata nel 1957 giocata tra il nazionale rolando taglaferro e il candidato maestro antonio de santis questa partita che io vi ho portato non brilla di tecnica da mistica ma vedremo che uno dei due avversari regalerà la pari all'altro con una partita con una posizione tremendamente vinta tecnicamente era totalmente vinta vedremo anche delle varie imprecisioni ma lì ci stanno perché la partita nel gioco centrale era abbastanza difficile infatti l'apertura sarà la numero 24 una 3 n quindi vantaggiosa per il nero difficile per il bianco quindi andando direttamente la partita apertura numero 24 21 17 12 15 25 21 e il nero già esce fuori teoria probabilmente non la conosceva fa 10 14 la teorica e 8 12 qua il bianco nonostante una trenne non fa la spaccata ma fa 23 20 quindi si mette più nei guai 5 10 28 23 15 posizione molto forte per il nero qui viene fatta 22 18 il nero dà il cambio qui per il bianco bisognava trovare la 29 25 che impedisce 5 10 altrimenti qua c'è il tiro molto difficile da trovare questa 29 25 il bianco fa 20 16 e questa posizione già in vantaggio per il nero che fa 5 10 32 28 il bianco vuole qualche modo attaccare 8 12 ora il bianco fa 27 22 vuole togliere la 15 minacciare questo specie di diretto ovviamente adesso tocca al nero che fa 19 23 portandosi già verso la damatura però qui sbaglia perché cattura con la 4 ragazzi dando la possibilità il bianco pure di mettersi in posizione per damare ecco in questo modo da quella posizione ecco da qui il nero doveva mangiare con la 3 perché qua anche se ci sarebbe stata questa comunque da qui a gioco corretto da questa posizione il nero vince perché con questi pezzi riuscirà a tardare la damatura del bianco e venire qua qualche casella a dar fastidio al bianco prendersi magari un pezzo in più e vincere questa partita ovviamente questa ok non è stata giocata 4 7 22 19 e da qui la posizione ritorna in completa parità tutta da giocare ora vengono fatte alcune mosse di sviluppo ecco qui secondo me la posizione del nero è molto più facile da giocare perché riesce a essere in mossa con la dama bianca che dovrà fare diciamo qualche mossa d'attesa con le pedine cercando di stare attento comunque al bianco non gli importa del pericolo fa 30 27 qua il nero attacca la posizione ancora è pareggiabile però il bianco deve fare una mossa impossibile come 7 11 poi qui ci sarebbe super variante che trova il king dove ecco comunque posizione pari bianco comunque dovrà dare un pezzo al nero e il nero fa pari molto facilmente qui però taglaferro da umano gioca 29 25 adesso la posizione in mano del nero che deve fare 18 14 per stare sempre in mossa sulla dama bianca cercando di portare i pezzi in avanti bloccando quelli del bianco però fa 10 14 e qui il bianco è spericolato mette un altro pezzo così questa posizione ok non è facile da valutare comunque qua 7 12 e pari 31 28 già sbilancia la bilancia verso la parte del nero scusate il gioco di parole ora da qui raga andremo veloci perché le mosse sono veramente tante quindi mettiamo il turbo adesso il nero attacca bianco si sposta il nero ritorna sui suoi passi per dare il tiro ovviamente il bianco lo schiva il nero fa questo cambio comunque posizione vantaggio leggero del nero che può fare tre dame rispetto al bianco ne deve fare due comunque non è un vantaggio troppo abissale quindi il bianco potrà provare a liberare questa debolezza che c'è lì ora entrambi vanno a fare dama qui il bianco ecco prova il cambio ovviamente il nero lo schiva qua adesso il bianco non si accorge del cambio il nero lo attua subito immediatamente e qui il nero c'è la partita completamente vinta ragazzi è completamente vinta questa partita adesso il bianco vuole liberare la diciassette ma questo piano non funziona perché ce l'ha due cinque il nero lo sa lo fa vantaggio assurdo e qui il bianco ci prova va avanti va con tutte le sue forze con tutte le sue schiere e i suoi soldati 21 18 il nero va alla rincorsa e va a prendersi il pezzo un pezzo in più per il nero 25 21 per il bianco che vuole andare avanti non si arrende vuole questo pareggio e il nero sbaglia con 7 4 6 11 partita pareggiabile ovviamente la renderà proprio totalmente pari adesso non so se da qui è proprio pari però comunque il nero riuscirà a trasformare questa partita in un pareggio assicurato comunque ragazzi da qui da qui era totalmente vinta bastava andare a dare una mano alla 7 e poi portare via la 3 cioè molto semplice ragazzi molto semplice però vediamo quello che è stato giocato adesso ecco vedete questa sette diventerà 16 e qui non ci sarà più nulla da fare per il nero adesso prova ad andare dietro con questa dama il bianco non glielo permette come vedete dopo una serie di tentativi da parte del nero di recuperare questa partita al suo favore questa partita finisce pari bene ragazzi cosa cosa impariamo da questa partita impariamo a non arrenderci mai beh diciamo che dobbiamo vedere dall'avversario che che incontriamo ecco incontriamo un top player e li ci arrendiamo per rispetto perché quello la posizione non te la sbaglia sicuro incontriamo un avversario più abbordabile dove magari sappiamo che lui i finali non li conosce ecco dove lo mettiamo alla prova beh allora non abbandoniamo e continuiamo cioè per quanto riguarda me io abbandono a prescindere se vedo che la posizione è persa per me quell'avversario già ha vinto non deve dimostrare più nulla poi vabbè qui ci sono due linee di pensiero dove uno dice no mi devi imbattere fino all'ultima pedina e uno dove dice ok a una certa mi arrendo pensate che tuttora ci sono maestri che giocano il finale 4 contro 3 un finale comunque difficile però 4 dame contro 3 dame ecco già la superiorità numerica c'è anche se è un finale dove alcuni maestri hanno perso pur avendo il pezzo in più grazie a tutti per la visione vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi piace ed iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti e noi ci vediamo alla prossima